Seguimo Juarez e mi aspettavo che scorresse del sangue, ma di sé di non sapere che il colonnello ci voleva morti. Disse che Barsby aveva mentito anche a lui. Non sono certo che i miei fratelli gli credettero, ma fin dall'inizio non si fidavano di lui. Inoltre Juarez aveva la ragazza e ci stava portando al medaglione. E tanto bastò a Ray per continuare in pace. Mentre proseguivamo nel viaggio, c'era un silenzio carico di tensione. La situazione mi facevano prevedere. Sguardo lontano era l'unico con cui potessi parlare e una notte scomparve. Non avevamo altra scelta se non continuare senza di lui attraverso luoghi selvaggi dove nessun uomo bianco aveva mai messo piede. Nessuna traccia. Non ha senso. Forse è andato a pisciare e i comanci l'hanno preso. Se così fosse, saremmo già morti. Dai, andiamocene. Sei ancora vivo, potrebbe raggiungerci. Andare dove? Sai come arrivare al villaggio Apash? Verso la grande roccia che piange. È quello che ha detto. È là che sono gli Apash. Visto? La troveremo. Probabilmente visibile da miglia. Diamo un'occhiata in giro. Sorta. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La faccia che piange. Deve essere quella, ma dovremo girare intorno a quelle colline. Andiamo. Trovate. Dobbiamo girare intorno al passo e trovare un punto per guadare il fiume. Quindi il mezzosangue non ci serve più ora. In sella! E tenete gli occhi aperti! Rimani vicino ai carri! No, no, no. No te tagliano la gola. Te fanno lo scalco. Ti scordano. Ti fanno lo scalco. Ti frizzano con le frecce. Ti aprono il clare qua. Che fai? Ti cerchi di spaventare? Non chiede, compagno. Sto riuscendo. Indiani! Là, tra i cespugli! Dove? Non ne vedo! Fermate i carri! Cosa hai visto? Tra gli alberi ce n'era uno! Amigos, riuscite a vedere cosa spaventa tanto Pancio? Presto! Indiani, certo. I tuoi tirapiedi non distinguono un uomo da un uccello. Ti dico che sono là, riesco a sentirli. E io sento qualcuno che se la fa addosso. Calmati, amico. Meglio essere prudenti. Vamonos, andiamo! Spostati! Stai bloccando la strada! Quel gringo comincia a darmi sui neri. Stai bloccando la strada! Dobbiamo farci due tanti. Vedi? Laggiù! Uccidi, lo faccio! Uccidi al selvaggio! Cingata! Pensi ancora che non ci siano indiani qui? Non ho detto questo. Ma che qualcuno si era pisciato nei pantaloni. E avevo ragione. Torna qui, pendejo! Si porterà dietro l'intera tribù. In sella, andiamo! Meglio trovare un punto dove guadare il fiume! Ray! Torna qui! Non farlo mai più. Dove stai andando che si difetta, gringo? Andiamo! Devi rimanere vicino ai carri! Riporta qui il culo! Ti puoi beccare una freccia nella schiena. Non mi sembra... Non mi sembra molto sicuro. Non mi sembra molto sicuro. Vediamolo era quello Puta madre, che succede ora? Luca, dobbiamo spingere Paccio, muovi il culo Ehi amigos, uno di voi potrebbe smontare e darci una mano Presto Per la nostra Oh mio Dio Trovate un riparo Attacchiamo i loro Per la nostra Per la nostra Sono finiti? Ammazziamo i loro Presto Per la nostra Per la nostra Sembra libero Dov'è il secondo carro? Non lo so, è schizzato attraverso il fiume Magari tuo fratello è andato nel parco E forse sono stati trascinati via dai cavalli Dobbiamo seguire Andate da soli mentre tiriamo il carro fuori di qui Forza Forza Buona ragazza, la ragazza E cerca di non deludermi, Thomas A sinistra Perry Via 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 ide Grazie a Dio Sono scappato, l'ho lasciata Thomas la troverà Ci incontriamo al carro Ora seguimi e fa quello che ti dico Svelto Seguimi, resta vicino Dannati ladri Cos'è successo? I Pelle Rosse hanno preso il carro Andiamo! E Thomas? Dovevamo aspettarlo qui Non c'è tempo Li troveremo William, nasconditi Andiamo! Andiamo! C'è tempo William, andiamo. Silenzio. Allora? Forse. Non devi esserlo. Per ora, Juarez ha bisogno di me e Ray. E comunque ti proteggerò io. Penso che abbia già chi la protegge. Ti avevo avvertito, fratello, di non deludermi. Ray? Che ci fai qui? Hai lasciato il carro? No, l'hanno preso i comaggi. Allora possiamo tornare da Mendoza. Certo, ma che ne è dei... Dei fucili. Gli Apacio ci daranno il medaglione in cambio dei fucili, ricordi? Ah, quei fucili. Vuoi dire quelli che non abbiamo? Bene, andiamo. Oh, mio figlio. Ascondatevi. Strada sgombra. Senti da disparare! Siamo noi! Pensavo ti avessero uccisa, come i miei uomini. Voi siete due duri. È la seconda volta che salvate Marisa e io vi scambio per dei comaggi. Dov'è il mio carro? L'hanno preso i comaggi. Forse ci lasceranno stare adesso. Ascolta, amico. Ti sono grato di aver salvato la mia donna, ma dobbiamo recuperare il carro. Ci sono sopra cento fucili. Ah, merda. Beh, non possono essere andati lontano. In sella, amigos! Beh, non si metteranno a coprire le loro tracce. Datti una mossa! No, 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 no. Oh, no, no, no. No, no, no. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Andiamo, fratello! Grazie a tutti. Sono nostri ormai. Non mi sembrano preoccupati. Vedi quella roccia laggiù? Arrampicati e falli secchi. Vedremo se dopo saranno preoccupati. Bene, riprendiamoci il carro. A destra! Grazie a tutti. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Uccideteli tutti! Uccideteli tutti! No, padre! È il giovane sciamano che mi ha avvertito del tradimento! Quel piccolo bastardo! Padre, per favore, il giovane sciamano è mio amico. Ha tradito la sua gente per proteggerci. E quindi quale sarà la sua ricompensa? E quindi quale sarà la sua ricompensa? Ma poiché amico di sguardo lontano farò come chiede. Il grande capo apache, il grande capo apache fiume impetuoso risparmia le vostre vite. Lasciate le nostre terre! Prenderemo i cavalli, le armi e i carri come riscatto. E... la donna. Cosa? Fiume impetuoso vuole la tua donna. Juan! Eri l'unica conoscenza dei fucili. No! Quindi sei l'unica che può avermi tradito. Prendetela! Picchiate! Gadetevela! No! È una puttana bugiarda ed è brava soltanto in quello. Il giovane sciamano e i suoi compagni possono restare al campo per far riposare i cavalli, ma non avranno una buona accoglienza. Il fattuto è il i APR, se ecclo si è passato sul costello e armi rischanteria,